innovativa user friendly e cross mediale nasce così oggi la nuova daily letter di key for biz che come sempre inviamo agli iscritti da lunedì al venerdì intorno alle 17 30 18 dunque tante novità che vado a mostrarvi in anteprima anche per avere subito un vostro commento sulla nostra nuova daily letter sulla nuova daily letter di key for biz allora l'attenzione subito sul colore della testata vi annuncio non sarà sempre lo stesso cambierà ogni giorno oppure ogni settimana in base alla sensibilità di chi di noi andrà a realizzarla dunque un colore per sorprendervi e per colorare un po di più le nostre giornate di cui tutti noi abbiamo bisogno in questo periodo giornate che andremo a raccontare in sintesi in questa introduzione in che modo vogliamo raccontare le notizie vogliamo fornire subito il senso della giornata che giornata è stata dal nostro punto di vista focalizzato sull'innovazione sul digitale ma non solo crediamo in questo overload informativo che le notizie vadano raccontate analizzate con approfondimenti contesti e report è l'obiettivo di questa nuova daily letter è anche quello di farvi entrare virtualmente nella redazione di key for biz e offrirvi una selezione delle notizie che ogni giorno pubblichiamo su key for biz punto it dopo la notizia in primo piano le altre notizie come vedete in evidenza c'è anche il nome dell'autore perché è importante la firma la firma è un valore aggiunto nel giornalismo secondo noi una bussola che si fornisce al lettore chi vede quel nome e cognome andrà a leggere quella notizia perché attribuisce a quel nome e cognome a quella firma conoscenze e competenze in un settore competenze e conoscenze già dimostrate in precedenza andiamo a vedere le altre notizie che caratterizzano la nuova daily letter di key for biz con questo nuovo layout una daily letter che ogni giorno termina con una sezione multimediale quindi spazio agli executive webinar di key for biz ai podcast alle video interviste perché key for biz è anche tv e anche podcast siamo anche una piattaforma per trasmettere eventi digitali ed ibridi ed infine la nostra daily letter può essere condivisa anche su facebook linkedin e twitter chi di voi ancora non è iscritto alla daily letter di key for biz come fare molto semplice basta andare sul sito key for biz punto it e cliccare a destra su newsletter e iscriversi in pochi secondi dunque se ti piace la nuova daily letter di key for biz condividila